Salve amici, oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di, Bezzano Ligure. Il treno regionale, 19266, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Parma, delle ore 14 e 18, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Borgo Valditaro, Berceto, Sollignano, Fornovo, Ozzano Taro, Collecchio. Il treno regionale, 19259, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 14 e 21, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19352, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 14 e 57, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19294, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pontremoli, delle ore 15 e 40, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca Bagnone, Filattiera. Il treno regionale, 19261, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15 e 43, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 18399, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 15 e 51, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Sarzana, Carrara Avenza, Massa Centro, Forte dei Marmi Seravezza Querceta, Pietrasanta, Camaiore Lido Capezzano, Viareggio, Pisa San Rossore, Pisa Centrale, Ponte d'Era Casciana Terme, San Romano Montopoli Santa Croce, San Mignato Fucecchio, Empoli, Signa, Firenze Rifredi. Annuncio ritardo. Il treno regionale, 18373, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 16.06, arriverà con un ritardo previsto di 5 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale, 18373, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 16.06, è in arrivo in ritardo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19268, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Parma, delle ore 16.20, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca Bagnone, Pontremoli, Borgo Daldi Taro, Ostia Parmense, Berceto, Solignano, Fornovo, Ozzano Taro, Collecchio, Bico Fertile. Il treno regionale, 19299, di Trenitalia, proveniente da Pontremoli, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 16.21, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19371, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Sarzana, delle ore 16.43, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Arcola. Il treno regionale, 19360, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 16.57, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, la Spezia Migliarina.